I personaggi della storia sono lui, sono lei e affinché tutto quanto vada in merda, l'altro. Lui e lei si amano, ma lei è sposata con l'altro. Andiamo ad incominciare. Te la ricordi? Nella quella ricca, la moglie, i proiettili, il carattaro, quello che c'ha nel corso, c'è la tritone. Te la ricordi? Te l'ho fatta vedere, quattro anni fa non sceglie di credere, che insieme a lei c'è stato l'orgoglio. Te la ricordi? Poi che l'ha sparita, che la gente, che la polizia, c'è la creduta che era andata via, con uno con più sordi del marito. E te lo voglio vedere, che so stato io, e so quattro anni che, me tengo sto segreto. E te lo voglio vedere, ma non lo fa sapere, non lo dia a misuro, ti è a te dove te. Allora, o è il piano dei stranieri stasera, o so io che ho sbagliato strada e sono andato a ferire a Bergamo. Ma dove stavo stasera? Stavo a Roma. Allora, visto che non la conoscete, ve la spiego. Cazzi vostri. Tacco certi bipponi, che magari sapete. Allora, lui e lei si amano, ma lei è sposata con l'altro. Allora, lui e lei si amano, ma lei è sposata con l'altro.